Buongiorno ragazzi, approfitto del fatto che ho di nuovo la DSL per caricare questo breve video. Volevo darvi ancora una volta appuntamento ad Outdoor Expo. Ci siamo, mancano pochi giorni ormai, parliamo di questo fine settimana. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo a Bologna Fiere. Vi trovate nel padiglione 21, ospite della Cimune Outdoor, che si occupa di tutto lo spazio dedicato al survival. Allestirò uno stand dedicato alle tecniche di sussistenza primitive, delle quali al momento mi occupo a tempo pieno per lavoro. In descrizione trovate i profili social del mio brand. Do sta? Ah, eccolo. Secrets of the ancients, in particolare il sito e la pagina Facebook. Vi invito ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati perché sarà un 2019 ricco di appuntamenti. Porterò il mio corso di tecniche di sussistenza primitive in giro per l'Italia, grazie alle numerose scuole di sopravvivenza che mi ospitano. Dato che in questi giorni sto preparando materiali da portare in fiera per allestire il mio stand, infatti come vedete mi trovo nel mio garage barra laboratorio, voglio mostrarvi una piccola anteprima di quello che potrete vedere se mi verrete a trovare. Parleremo della lavorazione della pietra e di come si possa ricavare ad esempio una lama molto tagliente come questa. Parleremo delle armi da caccia primitive, quindi la lancia, il propulsore, fino ad arrivare ad arco e frecce. Questa roba è già impacchettata e pronta a partire. Vedremo una tecnica di accensione del fuoco primitiva molto singolare che probabilmente molti di voi non conoscono. Parleremo di contenitori, questi qui ad esempio sono un corteccia di betulla e della lavorazione delle fibre vegetali per realizzare cordami e tessuti. Tutti questi argomenti ed altri li tratto nel mio corso di tecniche di sussistenza primitive. Se andate sul mio sito nella sezione proposte trovate tutti i dettagli. Ma a parte me ragazzi, perché dovete assolutamente venire ad Outdoor Expo? Perché sarà una grande festa dell'outdoor, un'occasione unica per mandare a cagare una volta tanto questi social e scambiare quattro chiacchiere sulle nostre passioni di persona. Sarà un'occasione per poter incontrare i professionisti dell'outdoor che si metteranno a vostra disposizione e risponderanno a tutte le vostre domande. Tranne me, io non rispondo perché sono primitivo e il linguaggio all'epoca ancora non esisteva. Ma comunque, nell'area dedicata al survival, oltre a me, troverete tantissimi altri ospiti. Renzo e Luciano, gli organizzatori, hanno addirittura invitato Dave Canterbury. Pensateci un attimo, avrete Dave Canterbury lì a vostra disposizione. Lo potrete stalkerare a vostro piacimento insieme allo staff della Pathfinder School. Già che si parla di Canterbury, vi segnalo che il weekend successivo a quello dell'Expo ci sarà un corso di sopravvivenza tenuto da Canterbury stesso in collaborazione con la Cibone Outdoor e con Outdoor Tribe Pesaro. Per tutte le info rivolgetevi a Renzo Di Nozzi e Luciano Cicchelli, due persone serie che con poche e semplici frasi scioglieranno tutte le vostre riserve e vi convinceranno a privarvi dei vostri inutili danari in favore di un'esperienza che è sicuramente unica nel suo genere. Quindi ragazzi, senza tirarvela troppo per le lunghe, io mi rimetto al lavoro. Voi andate subito ad acquistare il biglietto per Expo anche perché online mi sembra costi anche di meno. Tutti i link del caso in descrizione e ci vediamo in fiera. Ciao!